cari amici ben ritrovati dopo questo lungo periodo di pausa siamo pronti per il nuovo rilancio del crone di vezzico con tanti cambiamenti e nuovi propositi vi aspettiamo tutti quanti venerdì 12 alla grande inaugurazione che terremo qui al ristorante e venerdì 12 vi aspettiamo tutti dalle 17 in poi all'aperitivo offerto dalla casa questo evento si realizzerà con le normative igienico-sanitarie stabilite un saluto a tutti dal team crone